È un'edizione zero di un evento che vuole diventare l'unico nel panorama nazionale di questa caratura. Gubbio ospiterà dal 30 settembre al 4 di ottobre prossimi il Festival del Medioevo, voluto da Federico Fioravanti come presidente dell'Associazione Culturale Omonima e depositario del marchio che ha ideato e progettato. E Gubbio è stata scelta come sede naturale perché, probabilmente, ha il centro storico più bello e meglio conservato d'Italia. Un festival dunque, non una festa, non una rievocazione come tante già presenti in Italia, ma un evento con il gota internazionale per restudiare, capire e diffondere la vera ricchezza di questa poco conosciuta età di mezzo. Il calendario è quasi pronto e già si può consultare qualcosa sul sito festivaldelmedioevo.it. Ci sarà una fiera del libro medievale dedicata all'editoria di settore presso il Chiostro di San Francesco, ad esempio, ma anche cene a tema, convegne e mostre. I grandi nomi già contattati hanno dato l'entusiasta adesione per quello che può diventare un evento di riferimento internazionale. Già adesso possiamo dire che i grandi autori, ne cito alcuni, 4-5, quelli più noti del grande pubblico, Franco Cardini, Chiara Frugoni, il professor Menestoga, il presidente del Cisame, che ci ha aiutato in modo fondamentale, ha collaborato, abbiamo il patrocino del Cisame, una grande istituzione culturale medievale che si occupa di Medioevo, forse la migliore del mondo, oserei dire, e poi naturalmente anche il professor Massimo Montanari, Tullio Gregory, quindi Jacques Dallaran, il grande studioso di San Francesco, e molti, molti altri, il professor Grado Merle, il professor Attilio Bartoli Langelli, grande medievista perugino. Quindi abbiamo il meglio. Siamo tutti molto ignoranti sul Medioevo, perché intanto è una convenzione, dieci secoli di storia. Noi crediamo che sia, questa è una sfida culturale divulgativa, cioè non è un paludato incontro di professori universitari, è una cosa viva per spiegare in modo semplice e chiaro a tutti gli appassionati cosa è stato il Medioevo. Un'epoca, come hai detto tu, in cui sono nate le lingue, in cui sono nate le nazioni, in cui sono nate le banche, i bottoni, gli occhiali, mille altre invenzioni. Gubbio è la piccola grande capitale del Medioevo, ha detto il sindaco Stirati, che oggi stesso ha presentato il festival al presidente della Regione Marini, come l'evento di grande richiamo che a Gubbio, dicono da Perugia, manca ancora. Beh, non che non ne abbiamo altri di grande valore, però sicuramente è un festival del Medioevo a Gubbio, dove abbiamo peraltro ricollocato i cartelli che accolgono i nostri visitatori, scrivendovi sopra la più bella città medievale come era fino a qualche anno fa, credo che sia veramente un'occasione di grande promozione e anche di grande valorizzazione del nostro patrimonio. È un'operazione che non è soltanto di tipo specialistico, universitario, accademico, anche se qui ci saranno grandissimi nomi e grandissimi esperti del settore del comparto medievista, ma sarà un modo per raccontare il Medioevo in tutte le sue espressioni, in tutte le sue caratteristiche, insomma, dalla cucina al libro alle erbe. Ci saranno i quartieri della nostra città, l'associazione Balestieri, l'associazione Maggio Gubbino, cioè tutta una serie di componenti che devono rappresentare il retroterra, organizzativo ma anche culturale, perché una cosa di questo tipo può essere realizzata nel migliore dei modi se veramente c'è una partecipazione di massa, vorrei dire.